Dobbiamo mirare a civilizzare il mercato nella prospettiva di un'etica amica dell'uomo e del suo ambiente. Con queste parole Papa Francesco ha accolto i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, teso a mettere a fuoco modelli di cooperazione tra il mercato, lo Stato e la società civile in rapporto alle sfide contemporanee. Nel discorso il Pontificia ha messo a fuoco in particolare due cause che alimentano l'esclusione e le periferie esistenziali, l'aumento endemico e sistemico delle disuguaglianze dello sfruttamento del pianeta e il lavoro non degno della persona umana. Dobbiamo chiedere al mercato non solo di essere efficiente nella produzione di ricchezza e nell'assicurare una crescita sostenibile, ma anche di porsi al servizio dello sviluppo umano integrale. Non possiamo sacrificare sull'altare dell'efficienza il vitello d'oro dei nostri tempi, valori fondamentali come la democrazia, la giustizia, la libertà, la famiglia, il creato. In sostanza, dobbiamo mirare a civilizzare il mercato nella prospettiva di un'etica amica dell'uomo e del suo ambiente.